Scusi, ti posso chiedere un favore al volo? No Aspetta, scusi, ti posso chiedere un favore? Un secondo Aspetta, scusi Aspetta, scusi, ti posso chiedere un favore al volo? Un secondo vostro Un secondo vostro Facenti scusi Vos siete nais faut il volo vore Scusa, mi come io? posso chiedere un favore? mi puoi toccare un secondo il naso? 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 grazie, grazie ciao c'è un salvo proprio se mi potete grattare un secondo il naso si grazie che bella grazie grazie aspetta, scusate, posso chiedere un favore al volo? proprio se non mi potete grattare un secondo il naso? un secondo proprio grazie ragazze, scusate, posso chiedere un favore al volo? se non mi potete grattare il naso un attimino? un naso? si grazie 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 scusate scusate posso chiedere un favore al volo? un secondo il naso? grazie grazie è gentilissimo un'urgenza proprio velocissima posso chiedere un favore se mi potete grattare il naso un secondo proprio? se mi potete grattare il naso un secondo proprio? e me ne vado se mi potete grattare il naso un secondo proprio? grazie grazie mille grazie 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 grazie